Ciao a tutti e benvenuti nella seconda parte della tendata della Route del Grandal. Cos'è successo nella prima parte lo trovate nella I in alto a destra. Mentre ora riprendiamo la seconda giornata e ripartiamo da Vinadio, il nostro base camp. E saliamo subito un cole della Lombarda immerso nelle nuvole. Come per la prima parte il video sarà intrammezzato da commenti. Buona visione! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti